La situazione dei contagi sull'Aquila e sulla Marsica tiene alta l'attenzione. A preoccupare di più la zona della Marsica, molti ricoveri al San Salvatore provengono da quell'area, ma all'Aquila ci sono focolai importanti legati ad ambienti religiosi. Le suore di San Gregorio, come già noto, al quale si aggiunge quello nel convento di Santa Chiara, con due frati ricoverati e altre in attesa di tampone. Questo dopo la scomparsa del cappellano dell'ospedale Padre Corrado Lancione, che aveva contratto il Covid. Secondo il dottore Enrico Gianzante, però, essendo comunità chiuse, il problema è circoscritto. La situazione dei contagi effettivamente preoccupa, tuttavia devo dire che noi riusciamo a controllare bene quella che riguarda la situazione. Abbiamo avuto un numero di contagi in aumento, soprattutto nella zona Marsica, come avete opportunamente fatto rilevare. Tuttavia, grazie all'accordo che noi abbiamo con i sindaci, riusciamo a fare degli opportuni programmi di screening e con test antigenici e con test molecolari e di conseguenza riusciamo a controllare abbastanza bene quella che è la situazione. Per quello che riguarda la zona L'Aquila, c'è stata una situazione che ci ha leggermente preoccupato per quanto riguarda un istituto scolastico, soprattutto scuola materna, che si trova presso la zona di San Gregorio. Però la fortuna è che si trattava di una comunità abbastanza isolata, siamo riusciti e in collaborazione col Comune e grazie ai test molecolari che abbiamo effettuato a isolare completamente quello che è il cluster. Sono situazioni che non ci preoccupano ma che ci destano attenzione. Noi abbiamo un sistema di monitoraggio di contact center molto molto efficace e di conseguenza le situazioni le controlliamo costantemente e riusciamo ovviamente soprattutto in comunità chiuse a effettuare un gran numero di tamponi. Anche il discorso dei vaccini tiene banco. Il centro di via fecare è aperto tutto il giorno ma in quello di Bazzano si è operativi la mattina con tre linee di somministrazione. Per il dottor Gian Sante la provincia dell'Aquila ha mostrato una grandissima capacità vaccinale, lo dimostrano i numeri però il problema è sempre legato all'approvvigionamento. Noi vacciniamo moltissimo nella zona, nella nostra azienda che è su ambito provinciale abbiamo raggiunto dei numeri veramente soddisfacenti. Noi riusciamo a vaccinare oltre 2500 persone al giorno, abbiamo superato i 2600. Il problema è che noi dobbiamo avere un approvvigionamento costante di vaccini, cosa che allo stato attuale purtroppo non ci viene garantita. Ci sono state delle polemiche intorno a Pasqua a dire che abbiamo vaccinato poco ma noi abbiamo dovuto salvaguardare quelle che sono le prenotazioni dei giorni successivi. Avevamo dei richiami e voi sapete bene che chi ha fatto il vaccino Pfizer o ha fatto il vaccino Moderna non è che ha grosse possibilità di discostarsi da quelle date.